Sono arrivati i miei amici, il che significa che non ci saranno più dolci quando se ne andranno. Scopri come nascondere il cibo ai tuoi amici affamati nel nostro video. Le mie caramelle preferite. Goldie è golosa. Devo nasconderle. Ciao! Ciao! Hai delle caramelle? Posso averne un po'? Mi dispiace, ma non ne ho. Ok, devo andare. Ci vediamo! Io ho visto dei dolci. Questi snack basteranno per tutto il fine settimana. Chi è? È un brutto momento. Vediamo. Ospiti! Caramelle! Devo nascondere tutti i miei spuntini o non rimarrà niente. Ce l'ho fatta! Ciao, Eva! Ciao, ragazzi! Entrate! Amici, giochiamo ai videogiochi. Ottima idea! Voglio il controller rosso. No, è mio! Ron, dammelo! Mi serve! Scalda al microonde la gomma da masticare. Aggiungi un colorante alimentare. Modella un controller. Crea i dettagli con la gomma nera. Aggiungi dei buchi con uno strumento di modellazione. E aggiungi i dettagli neri. Aggiungi i bottoni di gomma. Crea i dettagli classici con uno stuzzicadenti. Non puoi tenerti lontano da questo controller. È delizioso! Wow! Ma perché il mio controller non è gommoso? E sa di plastica! Una vasca da bagno piena di snack. Gomme, lecca-lecca, caramelle, cioccolatini e caramelle gommose. Che c'è di meglio? Questo è il paradiso! È solo un sogno. E niente caramelle. Le mie amiche mi stanno facendo uno scherzo. Dalle un altro po' di cibo per cani. Il suo sogno deve essere fantastico. È l'ora del tè! Il tuo tè preferito! Grazie, hai dei biscotti? Eva, per favore! Bene, li cerco! Grazie mille! Ecco! Cosa? Un biscotto? Ma siamo in due! Ci saranno due biscotti. Dividilo a metà. Ecco, due biscotti. Buon appetito! Ma non mi basta! Come volete. Ora ci sono quattro biscotti. Beh, è sempre meglio di niente. E mi basterà una bustina di tè. Mescola le uova con lo zucchero a velo. Aggiungi il burro fuso. E la farina. Fai la pasta frolla. Stendila in uno strato sottile. Tagliala a rettangoli. Taglia gli angoli superiori. Fai un foro con uno stuzzicadenti. Fallo sembrare una bustina di tè. Cuoci i biscotti. Immergi i biscotti nel cioccolato fuso. Metti uno spago per bustine. Cos'è? Lo provo anch'io. Che schifo! Beh, non mangiarla se non vuoi. Queste bustine sono tutte mie. Condividile! Non se ne parla! Mangiatila tua! Miammi! Il tè non è mai stato così buono prima d'ora. Uno scorpione! È solo una caramella! No! Eva, ti salverò! Lasciami stare! Goldie, dammi lo scorpione! È velenoso! Guarda, è una caramella! Provala! Miammi! Mangiamola insieme! Cosa fate? Mangiamo uno scorpione! Ne vuoi un po'? Vabbè, ce n'è di più per noi! Ciao! Che c'è? Ron, ho visto questo film! Te lo racconto! Ciao! Non ti sento! Aspetta un attimo! Eva se n'è andata! Il nostro piano ha funzionato! Cerchiamo gli snack! Devono essere da qualche parte! Trovati! Cioccolatini surgelati! Wow! Tiriamoli subito fuori! Ma come? Useremo quello che c'è qui intorno! Qualcosa funzionerà! Diamoci da fare! Non funziona! E questo? No! Ho un'idea! Un phon! Oh, ma ci vorrà molto! E un martello? Funziona! Ancora! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Ben fatto! Mmm! Caramelle! Cosa fate? È il mio cibo! Ma perché? Non preoccuparti! Ecco del cioccolato per te! Il mio preferito! Con le noci! Adoro queste caramelle! E io mi terrò il ghiaccio! Visto che non c'è altro! Questo è cioccolato! Sotto un bilanciere! Non riesco a sollevarlo! Solo un po'! Troppo pesante! Non ce la faccio da solo! Goldie, ho bisogno di te! Aiutami a sollevare il peso e prendiamo la cioccolata! Ce l'ho! Raccoglilo! Si è incastrato! Riesce a raggiungerlo? No! Neanch'io! Abbiamo bisogno di aiuto! Oh ragazzi! Avete trovato il mio cioccolato? Lo stavo cercando! Grazie! Cosa? È noi! Sono solo io! Fa caldissimo qui dentro! Che caldo! Eva, accendi l'aria condizionata! Fa caldo! No! Non posso accenderla! Lo faccio io! Dammi il telecomando! No! Che fai? Avevo dentro tutte le mie caramelle lì! Piovono caramelle! Che cosa? Follia dei dolci! Mi brontorà lo stomaco! Eva, sei sicura di non avere degli snack? No! Niente! Niente spuntini! Wow! Eva ha un telescopio! È vero! Wow! Incredibile! Si vede la luna! Ragazzi! Guardate! Oh no! Le mie patatele sono in pericolo! Incolla due pacchetti di Pringles l'uno all'altro! Rivestili con il primer! Applica uno strato di vernice blu scuro sulla parte superiore, dipingi un rotolo di carta nero, mettilo su una confezione di Pringles, incolla una lente di ingrandimento, dipingi un tubetto di caramelle di nero, smonta un fermaglio rotto e incollalo sulla confezione delle Pringles. Attacca la confezione di caramelle in cima! Dovete vederla! È una mezza luna! Incredibile! Sbrigatevi, forza! Ok, guardate! Ma non c'è niente! Non capisco! Dov'è la luna? Sto per mangiare la vostra luna proprio ora! Non devo sgranocchiare rumorosamente! Ho una voglia matta di caramelle! Devo cercarle! No! Neanche qui! Niente! Uh, cos'è? Un segnalibro dolce! Ti stavo cercando! Controllo tutti i segnalibri! Wow! È interessante! Quale personaggio troverai, tesoro? Sono sicura che ci siano delle caramelle qui! Riesco a sentirne l'odore! Prese! Eccola! Un orsetto gommoso! Ma come la prendiamo? Così? È pericoloso! Abbiamo trovato l'orsetto! Ehm... Lo tirerò fuori! Aspetta! Come faccio? Ragazze, lasciate perdere! Finalmente se ne sono andati! Non c'è più niente che mi trattenga dai miei biscotti di pan di zenzero preferiti! Stop! Non c'è più niente che non c'è più niente che ti tratta! Non farlo! Figlio mio! Non ha più la testa! Sei senza cuore! Andiamo, figliolo! Papà ti porterà a casa! Come hai potuto? Tesoro, andrà tutto bene! La medicina moderna fa miracoli! Cos'era quello? Questa foto è la migliore! Ciao ragazzi! Goldie, ho i biglietti per la premiere! Questi erano gli ultimi due! Evviva! Si comincia alle sette! Guardate l'ora! Dobbiamo sbrigarci! Buon film! Finalmente se ne sono andati! Posso mangiare questo dolce orologio da sola! Gnammi! Togli il ripieno dalla liquirizia Ritaglia una striscia Fai un buco in cima Forma una lancetta Attacca le lancette al quadrante Non capisco! Come mai siamo in ritardo? Avevamo ancora un sacco di tempo! L'orologio dice... Ehm... Cos'hai fatto all'orologio? Buon appetito! Dove sono i dolcetti? Ehi ragazzi! Ho un'idea! Che ne dite di suonare un po' di musica? Ron, tu prendi il triangolo! Goldie, tu prendi la pianola! Pronti? Via! E io suonerò l'oxilofono! E' delizioso! Sciogli dei marshmallow al microonde! Aggiungi la glassa fusa! Metti del cocco tritato! E mescola fino a ottenere una consistenza uniforme! Aggiungi il colorante alimentare a una parte! Stendila! Taglia un rettangolo! Sistema i dolci rettangoli colorati su una base per xilofono! La buona musica non riempie solo l'anima, ma anche il corpo! Gustosa! Eva, hai davvero mangiato il tuo xilofono! Ragazzi, mi sono lasciata trasportare! Queste lenti sono così deliziose! Ho una voglia matta di caramelle! Dammi una lente! Non osare leccarmi! Ups! Non tutte le lenti sono commestibili! Ti sono piaciute le nostre idee creative per nascondere le caramelle? Scrivi qui sotto quali sono le tue idee per nasconderle! E metti un like al video! Iscriviti al canale! E clicca sulla campanella per non perdere i nuovi divertentissimi video di Troom Troom!